Oggi con Fraia Palmerini siamo andati al campo di Pobandino, leader indiscussa della terza categoria, Girone C con i suoi 38 punti, mentre Sant'Angelo ne ha 18, 20 punti di differenza. L'arbitro è il signor Andrea Biritogno di Orvieto. È partito subito la griffo Sant'Angelo e qui è Pobandino che mette in mezzo il pallone, una bel colpo di testa ed è subito il gol. Quindi Pobandino 1 e Sant'Angelo 0. Ancora il Pobandino in avanti, casacca bianca, ancora un tiro, Palompa non trattiene, la palla perviene alla numero 7, grande mischia, numero 7, Parenzi, ma nulla di fatto. Ora c'è un gran tiro, la palla va fuori, il tiro era di Zerrovi ed ora c'è il 2 a 0, rallentato con il montaggio di Salo Giacchè, 2 a 0 per la squadra locale del Pobandino. Il Sant'Angelo gioca anche bene ma davanti alla leader della classifica non la può. Ancora dentro il Pobandino, colpo di testa e la traversa, colpo di testa che sembrava di essere di Barbanera. Ancora in avanti, ancora Palomba e siamo a 3. Pobandino 3, Sant'Angelo 0. Avanti ancora, bella questa volta l'intervento di Palomba su Frollano. Sant'Angelo in mezzo su angolo e qui c'è rigore netto, infatti l'arbitro, il signor Andrea Biritogno di Orvieto, lo concede e accorcia le distanze con tiri tuzzi. Praticamente l'incontro finisce qui perché è 3 a 1 e finisce l'incontro di Pobandino. A tutti, la mia più collega, le buonasera da Pobandino.